Ecco, adesso cosa fareste voi che è messa così? Perché metterla di schiena, girarla, metterla di schiena, lei non vuole, si arrabbia, mi attacca le unghie, è tremenda. Non è meglio che ti metti di schiena, così guardi il monitor, no mamma? Dai, guardati come sei, hai visto come sei? Sei tu questa, sai, ah dai, se non ti metti tu ti metto io, ma non attaccarmi le unghie, io cerco di far piano, per non farti male, ma almeno stai stesa, no? Di schiena, così può guardare, le ho messo il monitor, solo che adesso girarla, si, si, non vuole che la tocchi, urla, ai, ai, ma quando è stesa poi vedi che sta meglio, però, a passare questa roba è difficile, adesso vediamo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho cercato io la schiena e lei qua, la cazzo sta smurendo. Vabbè, ma sei più comoda così o no? Non sei più comoda messa così? E' una puzza da piscio tremenda. Vabbè, almeno non mi ha impirato le unghie. Torno a lavorare. Che vita di merda.